Allora, secondo me, Gasi, ho deluso tutti con quei video ultimi che hai fatto. A me non mi sei piaciuto per niente, un po' perché non rispecchi la tua filosofia, secondo me. Sei proprio andato completamente fuori tema. Non c'entra niente l'officina, non c'entra niente, cioè, sono cose che io mi documento a parte. A parte da noi a Mortau, non ho visto neanche uno di quei video lì. Stai sereno che la mia visualizzazione non ce l'hai avuta. Dormi tranquillo, voglio a letto felice. Io non ho guardato quei video lì. Intanto perché non mi interessano. Non li trovo interessanti per, non so, cioè, mi documento io, poi sono cose personali. Cioè, nella mia macchina posso fare quello che voglio. Non è che devo chiedere permesso a te cosa devo fare, cosa non devo fare. Detto questo, ecco, è meglio che organizzi i raduni lì, come si chiama, ecco, i raduni. No, non è che organizzi, hai detto che ci vai te, ecco, bene. Che i raduni sono una bella cosa, perché siamo un instant classic, no? Devo andare comunque a raduni. Raduni è un'occasione di socializzazione, è come un partito politico senza le sezioni. Il PD quanti sezioni ha? Non si sa, non lo sappiamo. Il congresso del PD quanti sono andati? Ci danno i numeri? I dati, vogliamo i dati. No, vogliamo i dati. Quindi no, partito politico e anche squadra di calcio, associazione sportiva, sempre cose belle. Molte volte, no, le associazioni fanno del bene della società, che è lo Stato. Si serve delle associazioni per fare squadra, no? Per dire, dar mandato. Il famoso terzo settore. Vabbè, adesso questa è un'altra cosa. Però anche i raduni danno vita alle cose. Se tu hai un'auto, non vai al raduno, non la fai vedere, la tieni chiusa in un box, la luce di tutti i giorni, no? Cosa te ne fai di questo? Cioè l'auto è, l'instant classic è, ti faccio vedere la mia passione. Tipo io prenderei, allora te lo dico, io ragazzi ho due auto. Il prima, la prima è l'S8, prima serie. Non quella che hai fatto vedere te, la seconda, no. Prima serie. Fine. La seconda col Tiptronic, vabbè. Ah, manuale non si trova. Trommela te manuale, ragazzi. L'altra è il Range Rover Vogue, anche il 3009. Quello dell'88. Cioè non la primissima serie. Aiutami te. Dai, aiutami te, ragazzi, che sei capace. Te che fai tanto, eh. Dall'88 al 90, fino a quando l'hanno fatto quella serie lì. 89, 92. Sì, l'hanno fatto anche i diesel. Comunque il Range, il Range. Mi accontenterai di un Discovery. Adesso, ragazzi, vorrei fare un bel... Un bel videazzo, se mi regalano un fuoristrada. Buttre la simpat прир Gaussian di vallahi. Pipì, asato qua, lo 여�avie poiché va. riigo. Franrto. Un belato. Grazie a tutti.